Quando si è alla ricerca di un nuovo computer portatile, tutti noi vogliamo che questo sia leggero, compatto e comodo da portare in giro, senza però rinunciare ad un ampio display. Zenbook UX334 è nato per sopirti. Con il suo design elegante caratterizzato dall'iconica finitura di ispirazione Zen, poco più di un chilo di peso e più piccolo di un foglio A4, è il notebook da 13 pollici più compatto al mondo. E come tutti i notebook della serie Zenbook UX334 è dotato dell'esclusiva cerniera ErgoLift, progettata da Asus per inclinare automaticamente la tastiera verso una posizione di scrittura più comoda, migliorando inoltre il sistema di raffreddamento e le performance audio. Mentre il suo piccolo chassis da 12 pollici dà ampio spazio ad un immersivo display da 13 pollici, che occupa fino al 95% della superficie del notebook. Tutto questo grazie alla tecnologia Nano Edge, ovvero cornici ultra sottili su tutti e quattro i lati. Con Zenbook UX334, grazie all'esclusivo Asus ScreenPad 2.0, di cui soltanto alcuni notebook Asus sono provvisti, avrai a disposizione un secondo display da 5,6 pollici, che ti consentirà di avere tutte le applicazioni preferite a portata di mano. Potrai infatti utilizzarlo per essere più produttivo durante l'utilizzo del pacchetto Office, eseguire velocemente operazioni di calcolo usando il tasterino numerico e perfino registrare combinazioni di tasti per sfruttare al meglio e più velocemente le tue applicazioni preferite. Progettato per non dare limiti alla tua creatività, Zenbook UX334 è costruito per fornirti tutta la potenza di cui hai bisogno. Grazie ai processori Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, 1 TB di memoria SSD ultra veloce e scheda video Nvidia dedicata. Tutta la potenza di cui hai bisogno in un notebook da 13 pollici con le dimensioni di un 12 pollici. Insomma, se stai cercando un PC dal design elegante, compatto e non vuoi scendere a compromessi circa le performance, Zenbook UX334 è il tuo notebook.